Cominciamo la discussione, come voi sapete ci sono delle persone a cui abbiamo chiesto di intervenire e chiederei a Monica Di Sisto che è appunto portavoce del cartello di forze del cartello di forze che si batte contro quel tipo di trattati commerciali internazionali di prendere la parola. Allora grazie, grazie. Grazie innanzitutto visto che vedo tante compagnie, tanti compagni, tante sorelle e fratelli con cui abbiamo condiviso tante cose in questi anni, vi saluto e vi ringrazio perché in tanti anni, ormai 20, in cui noi ci occupiamo di commercio internazionale, abbiamo cominciato a Seattle, abbiamo continuato insieme a Genova e poi abbiamo fatto insieme tutti questi ultimi appunto vent'anni cercando di avere delle regole commerciali che fossero rispettose di un livello base di diritti per l'ambiente e per le persone, abbiamo trovato tante compagnie e tanti compagni di strada con i quali abbiamo fatto un sacco di fatica insieme e tanti e tanti li vedo qui e quindi già solo il fatto che siamo ancora insieme, che non vi siete stufati nonostante vi dicano che siete lo 0,2%, che comunque c'è un mondo fuori, che guarda da un'altra parte, che comunque ci sono altre battaglie sempre più importanti, ecco il fatto che siete ancora qui e volete ricominciare e volete essere ancora una parte di questo ragionamento e questa notte non solo mi sembra una buona notizia, ma mi sembra una grande testimonianza di responsabilità democratica e per questo vi ringrazio. È un ringraziamento non formale anche alla casa perché per noi romani e per noi donne, e per noi donne romane in particolare in questi giorni diciamo è una testimonianza forte di che cosa significa esserci per le altre. Allora, innanzitutto io sarò molto brava e cercherò di dare degli spot, è vero siamo le piazze ma siamo anche la supplenza dell'istituzione. Questa cosa qui è l'ultimo dei nostri report dove abbiamo analizzato l'impatto del trattato commerciale tra l'Italia e il Mercosur, quindi paesi di Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, il governo italiano non fa delle valutazioni di impatto, non le fa economiche, non le fa sociali e non le fa ambientali, lo facciamo noi quindi oltre a fare diciamo dei simpatici happening facciamo dei lavorini che sono utili anche in questo caso per la democrazia che nessun altro farebbe. Se ne occupano, se ne interessano, sì a volte ci audiscono, poi li chiamiamo, li stressiamo, li chiamiamo al telefono, ci parliamo, si fanno eleggere impegnandosi su alcune cose alla prova dei fatti. Questo è un altro simpatico report, parla di un meccanismo abbastanza complicato che è quello degli arbitrati internazionali che sono contenuti nei trattati commerciali, servono alle imprese per fare causa ai nostri governi. Quando il governo Renzi ha cancellato il progetto Ombrina, che era quella trivella che sarebbe stata davanti all'Adriatico, l'azienda Rock Cooper, quando noi eravamo già usciti dal trattato Carta per l'Energia che lo conteneva, ci ha fatto causa e ci chiede 300 milioni di dollari. Ne ha spesi circa 100 per fare la trivella, diciamo, perché gli dovremmo dare agli altri? Perché sono dei mancati guadagni e quindi nonostante noi abbiamo deciso democraticamente di uscire da quel contesto, in realtà questa simpatica multinazionale ci chiede i danni futuri, manco fosse il mago Zurli che già capisce quanto avrebbe guadagnato. Qual è il vero nostro problema in questo contesto? È che noi noi non abbiamo un'interlocuzione politica seria sulla dimensione economica, noi non abbiamo persone serie dall'altra parte che abbiano voglia, desiderio, interesse a capire che cosa significa costruire un mercato europeo, nazionale, poi a seconda dei livelli appunto dei diversi livelli di sovranismo, europeismo, però alla fine che si sia europeisti, che si sia i versovranisti, che si sia del vecchio impero del Papa, in effetti nessuno ha voglia di sedersi non solo con i soliti noti, ma con le organizzazioni, le associazioni e in questo caso quindi l'anima viva, il corpo pulsante della sinistra che sono i lavoratori, i rappresentanti i lavoratori, e fare un discorso serio, comprensivo e multidimensionale. Ascoltano quando gli raccontiamo della povertà, certo, ci ascoltano quando gli parliamo delle catastrofi, dei disastri, loro ci schiacciano sull'emergenza, ma perché non vogliono risolvere i problemi, non vogliono prevenirli, perché provenire e risolvere i problemi significa cambiare paradigma e cambiare paradigma, io lo so che sono molto antipatica, lo so sempre stata e non intendo migliorare, ma non si fa andando ad assisi e chiedendo un mondo più giusto e più civile, si fa dando a questo paese un piano di sviluppo industriale, facendolo nel modo più competente, più trasparente possibile, permettendo alle forze sane, entusiaste, giovani e vecchie di questo paese di dare il loro contributo. Questo non è possibile in Italia, questo non è possibile con la socialdemocrazia europea, perché noi non siamo un movimento chiuso in Italia, siamo un movimento che dialoga con le altre associazioni europee e purtroppo questo non è possibile da noi, non è possibile da loro. C'è una forte ebollizione verde che cresce nel cuore dell'Europa, alla quale fanno da contraltare gli altri effetti collaterali di questa compressione di partecipazione che è la destra, che scarica questa nostra voglia propositiva nella lamentela, nella bullizzazione dell'escluso e nell'accanimento contro il più sificato, che è il più classico dei meccanismi. Ma se noi non troviamo uno spazio democratico all'interno delle quali far convergere competenze ed energie, chiaramente siamo in una strettoia. Qual è la strettoia? Quella di cui si occupano le associazioni come questa, cioè tenere insieme le convergenze di scopo, come può essere una campagna che mi onoro di coordinare da qualche anno e che ha dentro tante cose, c'è dentro il sindacato, ha dentro i produttori, ha dentro solo food, ha dentro gli ambientalisti, tante tante cose che da tanti anni sono abituate a ragionare insieme e da tanti anni cercano di sviluppare questa progettualità insieme e ci riescono. Voi che ci frequentate lo sapete, cioè le nostre cose sono estremamente costruttive, sono estremamente propositive, sono estremamente, come dire, dotate di futuro. Il problema è che nessuno ha coraggio per dargli delle gambe. E questo, per esempio, è successo anche ieri. Io ho visto in Commissione Ambiente l'audizione di un rappresentante dei Fridays for Future. Una, come dire, audizione straordinaria. E qui non parliamo di refoli dalla finestra, cioè qui parliamo di due relazioni veramente sostenute e vedevi l'occhio vitreo dell'istituito medio che lì annaspava, perché poi è questo l'altro vero problema che noi ci troviamo ad affrontare, perché noi non stiamo solo in piazza, noi andiamo spesso a palazzo e siamo stati negli ultimi vent'anni a palazzo a cercare di ragionare, convincere, muovere, smuovere, suggerire, spingere, gambettare quando era necessario. E il punto è questo, cioè che noi non vediamo, siccome non è necessario arrivare a un ragionamento preventivo pianificatore competente, e allora è chiaro che io vado sui social e prendo quello che ho più like e lo candido. Perché quella è l'altra deriva. Perché tanto non lo voglio fare il progetto, quindi a che mi serve quello che sta a fare il progetto? Non lo scelgo perché magari anzi quello che sta a fare il progetto è quello che capisce che se quando gli arriva una cartellina con un documento pronto, che c'ha dentro sempre le solite cose, che dicono da dieci anni, e allora magari quello manco lo capisce, quella cosa ci sta dentro da dieci anni e che noi lì non andremo da nessuna parte, e allora forse mi fa pure più comodo tenerci quello che magari è carino, c'ha mille like, non capisci, un cazzo, ma è un problema mio in effetti, perché me lo votano lo stesso. Qual è la proposta? Perché io ce l'ho sempre una proposta, tu lo sai, purtroppo. Noi dobbiamo disegnare, e questo lo dico a loro, loro ci stiamo provando in tutti i modi, sul Mercos, su quest'estate, poi sul Titi, poi lunedicenni parliamo, insomma, tra noi ci parliamo. Ecco, dobbiamo disegnare un perimetro comune che sia blindato. E diciamo, una iniziativa che ha appunto una vocazione più politica come questa, può essere un terreno, come dire, uno spazio progettuale all'interno delle quali alcuni contenuti più progettuali politici entrano, come un contributo di generosità, come l'estrema razio, come provamocene un'altra volta, non lo so, però io sono sempre per provamocene un'altra volta, perché comunque è una questione caratteriale, per disegnare questo perimetro all'interno del quale mettere degli elementi di senso. Dal mio punto di vista, soprattutto dei paletti economici, soprattutto dei paletti sulle regole, soprattutto dei paletti sulle regole che determinano lo spazio del mercato all'interno del quale ci dobbiamo muovere, perché altrimenti, sia sulle migrazioni, sia sui poveri, tutto quello che noi potremmo ottenere si dividerà tra ciò che ci possiamo permettere e ciò che non ci possiamo permettere. È un dibattito vecchio, perché la prima volta che sono entrati regolarmente in questo paese dei migranti lo hanno fatto in base a delle quote calcolate sulle esigenze delle aziende. Io ricordo, era al tavolo Martelli, io c'ero perché era una giovane, già operatrice del mondo del terzo settore, molto giovane, mi ricordo che il sindacato fu il primo a dire, guardate che se voi non tenete insieme il tema dei diritti con quello delle esigenze delle imprese, loro diventeranno un esercito di riserva, non lo dicevamo noi, lo dicevano loro, c'avano ragione. E questo esercito di riserva è diventato il nostro peggior nemico nel momento in cui noi non ce li possiamo più permettere. E noi non siamo riusciti ad avere la forza di avere una cultura così calda, così accogliente, così forte e così, come dire, preponderante da riuscire a tenere tutto insieme. Chiudo quindi dicendo, disegniamolo insieme questo perimetro. Noi abbiamo tanti contenuti che abbiamo condiviso, stanno lì, sono a disposizione e sono aperti a tutti, perché la mia preoccupazione Giulia è che le porte si aprono. Anche noi eravamo un fresco refolo di vento prima di Genova, poi ci hanno ammazzato quando hanno capito che noi lo volevamo portare a casa quel progetto e lo volevamo portare a casa con un cambiamento di sistema, non con un cotillon o una bella spolverata di farda. Allora, se siamo seri, nei loro confronti, io non ho figli, ma mi vergogno tantissimo che non ci abbiamo fatto a cambiare il sistema. Tutte le volte che li guardo, tutte le volte che li incontro, io provo vergogna per la nostra incapacità. A 50 anni io provo vergogna e voglio fare tutto quello che posso, perché finalmente la mia generazione e le nostre generazioni si assumano il compito di un cambiamento, però. Basta chiacchiere, basta chiacchiere. Il linguaggio sarà quello che c'è. Io sono un po' più volgare, ci stanno persone più eleganti, ma abbiamo dei progetti. Mettiamoli insieme e arriviamo veramente a qualcosa che scaldi il cuore del nostro popolo, ma che gli dia anche da mangiare, da bere e da stare tranquilli. Grazie. Grazie Monica. Appunto, il cambiamento del paradigma, questa è la questione, perché i paradigmi vecchi non solo scaldano il cuore, non scaldano il cuore, ma sono anche fallimentari e quindi naturalmente noi siamo a disposizione, anche se siamo una piccola cosa che cerca disperatamente, siccome condivido sulla questione della vergogna, non vogliamo disertare, diciamo così, ecco, quindi vorremmo rimanere combattenti e cercare di non disertare. Va bene.